Ehi ragazzi, so cosa state pensando? I vostri occhi non sono abituati a vedere tanto colore e piacevolezza. Il mio personaggio in Tross World Tour è Poppy, regina del pop. È un personaggio davvero molto bello, carismatico, colorato. È tutta fucsia, tutta rosa. Mi piace perché è sostanzialmente un personaggio molto entusiasta. Sicuramente è una roba nuova per me. Sono entrato per la prima volta in un mondo parallelo, in un mondo diverso. È un qualcosa di meditativo. Ripensavo alle scene che ho doppiato quasi come se le avessi vissute. Ah! A quanto pare un mega manuale super dettagliato è davvero utile! E vai! Giusto il tempo! Entrare nel personaggio a dare quel tocco, essere come io, è un mini diamante. È stato molto bello, è un personaggio molto cool. Sono la regina barba dei Troll Hard Rock. Regina del rock distruggerò tutta la musica, tranne i rock! È un lavoro molto complesso e richiede veramente tanta tanta energia. Deve interpretare un altro ruolo e anche come utilizzare la voce è un altro completamente diverso da quello che facciamo poi noi come mestiere. Oh, quanto sei vomitino! Il fidanzatino di Poppy si è appena imboccato al concerto. Non sto dicendo che dobbiamo usarle, dico solo che è meglio essere pronti in caso dovessero servirci. Non succederà. A meno che i bastoni appuntiti non ti servano ad ascoltare o questi sassi a metterti nei panni di qualcun altro. E questo qui? Questo cos'è? Una specie di gioiello? Oh, in effetti è mezzo fico.